Un percorso educativo per ripensare la città in maniera innovativa e sostenibile attraverso un gioco virtuale. Essenzo del progetto Le città possibili, presentato lo scorso venerdì prezzo l'incubatore stecca nell'area degli ex molini meridionali Marzoli. Il progetto, promosso dall'associazione Beta in partenariato con gli istituti de Nicola Sasso, Sauron Morelli e il liceo scientifico Nobel di Torre del Greco, è stato selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico educare insieme, per la realizzazione di progetti volti al contrasto della povertà educativa e a sostegno delle opportunità culturali ed educative dei minori. Le città possibili è un progetto promosso dall'associazione Beta in partenariato con tre istituti di Torre del Greco, l'istituto de Nicola Sasso, la Sauron Morelli e il liceo scientifico Nobel, che è finalizzato alla costruzione di un gioco virtuale. Un progetto educativo molto innovativo per accompagnare i ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado verso un percorso di crescita e di autoconsapevolezza su quelle che sono le responsabilità di ciascuno nella vita e nella crescita della città. Saranno realizzate delle attività laboratoriali che avranno l'obiettivo di suggestionare, portare degli stimoli, degli spunti per sollecitare i ragazzi a ripensare le proprie città, gli spazi delle proprie città in maniera più sostenibile ed innovativa. Saranno promosse delle attività che coinvolgeranno la comunità nel corso dell'anno, quindi delle occasioni per prendersi cura degli spazi della città fino all'allestimento di uno spazio gioco che sarà realizzato all'interno dell'incubatore stecca, sede dell'associazione, dove prenderà vita questo gioco virtuale, appunto un gioco di ruolo in cui si andrà avanti secondo comportamenti responsabili e sostenibili. Una città possibile per noi come amministrazione e soprattutto per me come assessore alla transizione ecologica è una città sostenibile dove funziona la mobilità sostenibile, la tutela della qualità dell'area, la tutela dell'ambiente e proprio come assessore plaudo a questa iniziativa perché abbiamo messo in campo come amministrazione iniziative sulla mobilità sostenibile con l'attivazione a breve sul territorio del servizio di bike sharing e con l'avvio sul territorio della costituzione delle comunità energetiche per le energie rinnovabili. Quando c'è stato proposto dall'associazione della stecca questo progetto l'abbiamo accolto con entusiasmo perché coniugare diciamo le tecnologie con l'educazione civica ci sembrava proprio una bella idea. Participano a questo progetto le classi prime della scuola secondaria di primo grado, è un progetto veramente molto interessante e sono sicura che interesserà, appassionerà i ragazzi e avrà anche delle ricadute positive. I studenti del Nobel sono sempre molto attenti a partecipare su qualsiasi progetto gli viene poi proposto. Con le attività pomeridiane ci sarà sicuramente un team di professionisti che ci guiderà per un'esperienza nuova. I nostri alunni per la prima volta si trovano di fronte a una idea completamente innovativa quella di progettare una comunità molto inclusiva con degli strumenti nuovi, digitali e sicuramente questo scatenerà una grande curiosità negli studenti e saremo sicuramente sul pezzo. Siete contenti di questo progetto e cosa vi aspettate? Sì perché ho intenzione di rinnovare la nostra città e renderla pubblica a tutti, quindi anche persone con handicap e problemi. Per fare un'attività pomeridiana diversa dal solito. Mi è sembrato molto bello usare delle cose tecnologiche per ricostruire la nostra città. Io mi aspetto che sia una cosa divertente in cui ci possiamo divertire, progettare e ci possiamo anche incuriosire di ciò che c'è.